Signori, adesso andiamo a presentare, dico, ormai non ci sono più aggettivi, seduti per favore, ormai non esistono più aggettivi, perché la cosa bella è vedere bambini di 6-7 anni cantare canzoni di 30 anni fa. Signori, stasera qui a Villa Epica, non c'è bisogno che vi dico, accogliamolo come si deve, signori, Gianni Celeste! Grazie! 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 Grazie a tutti 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 Buonasera Grazie a tutti 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 Grazie a tutti